In continuità con quella dell'anno scorso, del 2013, si apre questa seconda manifestazione, questa seconda edizione del gusto del cioccolato, in piena continuità con il 2013. Vorrei dire pensando in primis ai bambini che sono il momento centrale di tutta la manifestazione. Non perché sono i principali fruitori delle dolcezze e delle prelibiatezze che vengono fuori dal cioccolato, ma anche perché allora è dedicata la parte mattutina dei laboratori didattici per farli avvicinare al mondo dell'artigianato, in particolare quello del pasticcere e dei cioccolatieri. Ma naturalmente questa manifestazione è rivolta un po' a tutti i cittadini, nella speranza, e questo l'auspicio dell'amministrazione comunale, che grazie a queste manifestazioni che vengono a costo zero per il comune di Catanzaro, è necessario dire, e servono anche a vivacizzare quella parte nodale e fondamentale della città che è il centro storico. Quindi speriamo di poter godere di queste dolcezze in modo spensierato per questo fine settimana. Erano stati già coinvolti quest'anno, qualcuno addirittura si era proposto, poi anche dal punto di vista delle licenze ambulanti che necessitano per poter vendere su suolo pubblico, non è stato possibile far aderire a questa manifestazione i nostri cioccolatieri e i pasticceri. Però stiamo già pensando con l'organizzatore, con Guido Napoli, come poter ovviare a queste difficoltà per coinvolgere proprio gli artigiani catanzaresi della provincia e perché no, come dice lei, anche della regione. Da questo punto di vista voglio ringraziare anche i colleghi assessori Giovanni Merante e Rita Cavallaro per l'apporto che danno ogni anno a questa manifestazione, così come quei consiglieri comunali che ci sono stati vicini nel dare il loro contributo per organizzare la seconda edizione del gusto del cioccolato. Come si immaginava, visto le richieste, come ho detto più volte, sui social network, sulla nostra pagina Facebook, c'era grande partecipazione, infatti si vede già dal numero di persone presenti. Come ogni anno, quando veniamo a Catanzaro fa molto freddo, però questo ci fa calare in un'atmosfera più per assaporare questo cioccolato artigianale e ci fa vivere di più questa atmosfera che richiama anche le varie regioni da cui vengono i nostri maestri cioccolatieri, come il Veneto, la Lombardia. Però, come ho detto più volte, c'è anche la Sicilia, il Molise e sono presenti qui in piazza per allietarci, allietare il palato e anche allietarci sulle spiegazioni della lavorazione del cioccolato. Abbiamo avuto questa mattina e anche nel pomeriggio dei bambini del Galluppi, molti interessati, a cui sono stati fatti i laboratori didattici e poi hanno partecipato alle varie iniziative del Marmocchi. Sì, assolutamente sì. E inoltre noi abbiamo preso contatti con diversi operatori che erano intenzionati a partecipare, però non al momento abilitati alla vendita in piazza, quindi alla vendita itinerante. Però stiamo cercando di inserirli pian piano per magari creare un'edizione tutta calabrese, se possibile. Speriamo di farcele in breve tempo.